Il gelavola è per la prima volta dopo 24 giornate e comanda da solo il girone A del torneo di eccellenza. Finalmente, ieri la squadra biancazzurra sul difficilissimo campo del Mazzara ha conquistato l'intera posta in palio offrendo una prestazione di altissima levatura contro un avversario ostico. 1-2-1 ottenuto con la forza di una squadra che quando gioca, così come pretende il suo tecnico, non ha paura di niente e di nessuno. Tre punti di platino che lanciano in orbita la navicella biancazzurra. Il Gela adesso è primo da solo con 49 punti e grazie alla sconfitta rimediata dal Dattino Noir in casa del Camaratt ha un vantaggio di tre lunghezze sui trepanesi, a loro volta raggiunti al secondo posto dalla San Cataldese, vittoriosa con il Cus Palermo. Perde terreno quasi definitivamente dalla zona alta della classifica il Castelbuono, sconfitto dal Paceco. E' una lotta a tre per il salto di categoria. Gela, Dattino e San Cataldese se la giocheranno fino alla fine. Ieri i gelesi hanno firmato una vittoria di prestigio dopo tre pareggi consecutivi fuori dalle mura amiche. Lo avevamo detto in settimana, ci vuole il colpaccio in trasferta e così è stato. I gol sono stati realizzati da Bonaffini al decimo e da Mincic al ventinovesimo del primo tempo. Il Mazzara ha accorciato le distanze con Rosella nella ripresa. La formazione allenata da Tommaso Napoli ha poi provato ad aguantare il pari, ma sulla sua strada ha trovato un pandolfo semplicemente straordinario. Vincere a Mazzara non era facile, tutt'altro. Era, come aveva sottolineato lo stesso tecnico Toto Bruculeri il giorno prima della gara, una partita da tripla. Avere conseguito il risultato pieno è semplicemente straordinario. Adesso non bisogna più fermarsi. A cominciare, da domenica prossima, quando il Presti sarà di scena, la libertà sarà calmuto, ultima in classifica. Sulla carta l'impegno è facile, ma attenzione perché, così come già accaduto, ogni qualvolta le cosiddette piccole affrontano il Gela, centuplicano le loro forze. Adesso più che mai, considerato che il Gela è capolista.